24 mila ettari di boschi inseriti a cavallo tra le alpi giurie e le alpi carniche lungo questi corridoi sono rientrati nel nostro paese animali molto rari il lupo è mancato 100 anni la lince 150 al castoro addirittura 500 anni inizialmente è arrivata arrivata la lontra solo da un circa tre anni a questa parte che è arrivato un nuovo ospite in foresta che è il castoro tra le alpi giuglie italiane slovene sono catastati 23 corpi glaciali e solo il montasio è un vero e proprio ghiacciaio anche lui è in corso di lento e progressivo esaurimento è un albero colossale un tiglio di oltre 5 metri i peri sono raramente utilizzati come specie ornamentale ma qui costituiscono proprio un unico non c'è orchestra al mondo che non ha uno strumento al suo interno che è stato costruito con questi alberi grazie a tutti